La Panini celebra la centesima edizione del Giro d'Italia con una novità assoluta. L'azienda modenese ha infatti realizzato su licenza di RCS Sport in collaborazione con la Gazzetta dello Sport la collezione ufficiale di figurine sui team e i protagonisti della Corsa Rosa che prenderà il via venerdì 5 maggio dal Ghero per concludersi a Milano il 28 maggio. Questa nuova raccolta Panini Giro d'Italia 100 è articolata in 388 figurine adesive e 22 card. Le figurine potranno essere raccolti in un coloratissimo album da 64 pagine mentre alle card è dedicato un astuccio contenitore. La copertina vede in primo piano Vincenzo Nibali, vincitore della scorsa edizione del Giro.